L'uomo si trovava all'interno dello stabilimento Ilva di Taranto. L'operaio è morto quasi sul colpo. Se non partecipate agli scioperi le cose non cambieranno mai. Che cosa facciamo qua? Basile, questa qua è attività sindacale. Ha cacciato la musica, sindacale! La spostiamo. E mi spostati in acciaieria? Ma io questo non posso firmarlo, sono un informatico. Aldor Malanzio, dove sta? Voi l'avete promosso, l'avete messo là. Dove si portare a casa lo stipendio senza fare niente tutto il giorno. Alla faccia di quelli come me che si fanno un mazzo così. Ma tu ci vuoi andare pure tu a... A brattarti le palle tutto il giorno pure te. Alla laf mi mandate? Però mi devi dire tutto quello che succede là dentro. A disposizione. Ti mando alla laf. Da oggi Caterino Lamanna c'ha l'ufficio suo. Oh no, questo sta già inguagliato di suo. Io solo la benzina devo mettere, manco l'assicurazione parla. E ti hanno anche fatto il caposquadra. Ancora stai contento, no? Vedrai che poi la nausea ti salirà pure a te. Ma tu lo sai dove stavo io prima? Pioggia. Pioggia che cade. Ma io sono sette mesi che sto qua dentro. Non ce la faccio più. Se mi chiedono di andare a pulire i gesti li va a pulizzo. Pioggia che cade e che batte sul viso. Pioggia che cade sul viso. L'avete vista? Vasile bastarda negriera a me. Tu hai mandato qua dentro del personale qualificato. Che ora tu vuoi mandare a fare gli operai senza che abbiano alcuna competenza? Però al posto loro tu ci hai messo gli amici tuoi. E' mobbing questo? Fino a che punto vogliamo arrivare? Vi siete mai chiesti come mai accanto alla più grande acciaiera d'Europa non ci sta nemmeno una fabbrica di forchette? Il nostro acciaio serve costruire la ricchezza di qualcun altro. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info